Salve, oggi ci possiamo domandare chi sono i preferiti di Gesù? Come tutti i grandi maestri penso che Gesù ha avuto dei preferiti, ha dei preferiti e lui lo dice nel Vangelo. C'è un momento molto bello che racconta San Luca nel quale si leggono queste parole. Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse, tirendo l'ode, oh Padre, Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e li hai rivelati ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così ha deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il figlio se non il padre, né chi è il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà rivelarlo. E rivolto ai discepoli in disparte disse, Beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate ma non lo videro e ascoltare ciò che voi ascoltate ma non lo ascoltarono. È bello considerare che Gesù esulta, si riempie di gioia e il Signore si riempie di gioia quando considera questo, che lo Spirito Santo si rivela non a tutti ma a quelli che si fanno piccoli. Ti rendo grazie oh Padre, Signore del cielo e della terra perché hai nascosto queste cose ai sapienti e li hai rivelati ai piccoli. Se vogliamo contentare Gesù, se vogliamo far felice Gesù, dobbiamo diventare piccoli. È la piccola via, l'hanno insegnato tutti i santi. Chi non ricorda Santa Teresina del bambino Gesù o tanti altri. L'altro giorno ricordavamo Padre Pio e anche lui ci affidava, ci chiedeva a tutti di camminare su questa piccola via. Che cose possiamo fare per essere piccoli? Io direi che si tratta fondamentalmente di tre cose. Prima di riscoprire ogni giorno la nostra filiazione divina, riscoprire davvero che siamo figli di Dio. In secondo posto avere piena fiducia in lui. E terza ricordare che dobbiamo lottare, offrire le piccole cose della giornata. Non siamo angeli, non è che possiamo fare tantissime grandi cose, non siamo, non so, presidenti, magari qualcuno di voi sì, non siamo presidenti di grandi aziende o persone importanti, siamo gente comune. E che possiamo fare? Offrire le nostre piccole cose, essere piccoli. E ricordare che lì nei piccoli dettagli dove si manifesta l'amore è molto bello vedere come, non so, i nostri genitori, le persone che si vogliono bene si dedicano tutti i giorni a offrire piccoli atti di affetto, dettagli di comprensione, di accoglienza alle persone che amano. E noi dobbiamo fare lo stesso con Gesù, noi dobbiamo fare lo stesso con Dio. Cercare di percorrere questa piccola via con il desiderio di contentare di Gesù.